mini pala portatile Unvei è una pala tascabile di dedotte dimensioni podero in cordura chiusa a velcro passante per portarla in cintura da otto centinaio di circa la pala di colore verde nato con parti gommate è di semplicissimo utilizzo composta in due componenti una va semplicemente avvitata per l'estensione della stessa una volta saldamente avvitata viene tirata questa ghiera che la va a forzare in questo punto e abbiamo così un pozzino e una pala una parte seghettata ovviamente una seghetta rompi ghiaccio togli corteccia molto elementare o per rompere zolle di terra poi facendo l'operazione inversa ri abbattiamo la pala in questa maniera e abbiamo ovviamente una paletta di scavo tradizionale la stessa cosa si può fare per la parte con la piccozza qualora necessitassimo di avere un solo utilizzo da una parte eccolo qua si può anche altresì mettere in quest'altra maniera qualora la vogliate utilizzare come rompi ghiaccio o qualunque altra funzione vogliate adottare queste parti sono in gomma antiscivolo molto solide questa parte filettata andrebbe tenuta ben oliata è una pala semplice compatta maneggevole e tascabile anche abbastanza solida semplice bullone di ritenzione rivettata saldamente rivettata e le dimensioni ovviamente sono molto ridotte consente di metterla ovunque studia di sale come ... ...